segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te a vicepresidente dell'ucraina vera shuk che è considerata un po un falco della autorità civile e ucraina la risentiamo la crimea è stata e sarà ucraina il fatto che la crimea è ora occupato in modo temporaneo non significa che rimarrà russo di fatto questo è un territorio della federazione russo ma noi non lo riconosciamo come tale e non lo faremo mai putin non si fermerà può essere solo fermato e senza le armi purtroppo non può essere fermato allora questa è sicuramente un falco più di zelensky che tra l'altro questa mattina riferisce della difficoltà della complessità dei negoziati per riuscire a far evacuare tutti coloro che stanno ancora dentro le viscere dell'acciaieria azovstal ma aggiungo e poi le lascio la parola generale che il capo dei negoziatori ucraini podoliak usa termine espressioni altrettanto forti e la russia ha minacciato la sicurezza mondiale facendo la guerra all'ucraina l'unico modo per stabilire l'ordine e aiutarci a ottenere la vittoria allora che le decisioni debbano essere presi dagli ucraini credo che non lo mette in dubbio nessuno c'è forse un politico italiano che l'ha fatto ma non molta non molto realismo che conte ha detto che non possiamo permetterci che siano anche siano gli ucraini a decidere le condizioni della pace ha detto credo che non possa essere smentito quindi tocca agli ucraini decidere che la guerra sia stata lanciata contro l'occidente lo dicono i russi l'ha detto lo stesso putin lunedì scorso in quella dis breve discorso che ha fatto durante la parata militare e quindi io credo che oggi abbiamo una situazione molto chiara c'è una operazione militare in corso una guerra in corso quello che sta accadendo sul terreno è molto interessante perché noi eravamo partiti da attacchi su tre direttrici poi una di questa è stata chiusa ora se si è chiusa la seconda ora io non credo che questa seconda chiusura sia dovuta a un'eccessiva debolezza credo che invece sia una questione di realismo da parte dello stato maggiore russo il quale si rende conto di non potere attaccare su due fronti allora ritira da quello che è un fronte secondario per quello che il fronte primario che è il donbass di tanto realismo da parte dell'amministrazione americana quanto realismo